Messaggio della Regina della Pace del 19 giugno 2021 al Veggente Ivan Cari figli, voi siete tutti importanti per me. Pregate e gioite insieme a me. Rallegratevi di ogni cuore che è stato trasportato e preservato fino a oggi. Pregate, specialmente oggi, per tutti i gruppi di preghiera che si stanno preparando per la mia venuta. La madre sta pregando per ciascuno di voi e intercede per ciascuno di voi davanti al suo figlio. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Grazie. Grazie. Grazie.